come si pubblica una clip raga oddio mandala a un mio moderatore mandala a un mio moderatore l'ho già messo l'aglio grazie per avermelo detto no io non bevo il caffè però bevo me stessa che sono caffo quindi è un po' come bevo il caffè benissimo auguri signori se festeggiamo signori festeggiamo sta senza consiglio festeggiamo tutta la vita ce l'abbiamo io me lo metto nel bicchiere siete mai chiesti del perché il 90% delle veline di stiscia notizia che voi direte la stiscia notizia è una merda però le veline che sono per antonomasia le bonazze sono ce n'è sempre una delle due sarda melissa satta giorgia palmas la canalis è vero raga sono tutte sarde in sardegna purtroppo i geni sono belli solidi dicono si tratta di vignania di mona la parola se si disculpa a me perché se non non si fa forse forse mangeremo polpette agli spinaci con mario però hai mangiato siamo ancora qua vai faccati adesso è di qua la porsa dopo dopo vai tranquilla dopo per ora sono in fraccia e al 40% Mettigli il cavetti nel culettetti Il soffritto non è obbligatorio Ma io lo farei Non mi piace il soffritto Non mi piace il soffritto perché è grasso Cioè Sto ritrovando i miei addominali E voi mi volete far mangiare lo scalogno fritto Ma voi state fuori di testa Voi state fuori di capoccia Pronto Buonasera dottore Accomodati ragazzi Siete di dove volete È un contrattempo Devo assentarmi Siamo qui a degustare davanti di torta Con le confetture Per il cioccolato E la zucca E voi direte cazzo c'è azzecca Perché questa di zucca sa di vaniglia Salone di mamma Quanto sei bella Sa di Adesso ve lo dico perché non vi ricordo Non vi ricordo Ho sport anche ogni giorno Mi prenevo il mio tappetino Insomma facevo flessioni No dio flessioni No Addominali Com'è che si chiama? Il plank Il plank Ho letto Alex Come procedono i cannelloni per merenda Non serve il cuore Quando non sai fare la pasta È vero Un anno di differenza I panzerotti si mangiano con le mani Piegati in avanti È vero È vero C'è proprio la classica posa barese Del mangiare i panzerotti Come le granite esplosive di Napoli Si mangiano così Anche quelle si bevono così Perché Sto capendo niente Ora non ricordo il nome preciso Però appunto anche loro Devono Allora Allora Le gambe devono essere piegate Tipo uno squat Si I cimidrapi sono amare Sono amare E Non lo so Non lo so Non stanno di verde Manca Agazzim Yes Yes No no Questa non mi piace Amore Non è fredda Ma cos'è quest'essere poi Allora Quindi io Ho un'idea Ho un'idea Da 300 in più Da Gianna Main Tipo Ho capito come dice Come dice Imo Dice così Arrotolarla sul martello Eh sul martello Se Sul mattarello E infatti è vero E infatti è vero Eh eh Si schiaccia Si spinge Si schiaccia E' fatto una grande opera Tazio Poi mi si risa conto Oddio ma io all'anno prossimo avrò 23 anni Ma avrei tanto conto quanto cazzo sono 23 anni? Porco due Cioè io non voglio arrivare all'età in cui bevo una birra e mi gira la testa E la mattina dopo vomito Dai ma che cazzo Si mi dica Direi che è importante Beh Cioè non sei un fallito 23 anni la gente si laurea 23 anni la gente va a vivere da sola C'è chi fa un figlio C'è chi Riceve le proposte di matrimonio E poi a me c'è Poi mi vuole sposare E un tipo che si chiama 164 Entra in stream Fa evidenza messaggio Scrive buongiorno Vuoi sposare E poi se ne va Buonasera dottore Io non mangio fritto Ora ho fatto una tarica di polpette Ragazzi ho fatto una piramide di polpette Sembrano dei cazzi Anto ci sei portato il costume Allora cerco subito ketchup Allora ketchup Ketchup piccante vegano Chi se ne frega Va bene Ci va benissimo Vegano Cosa ho visto Oddio Che spavento Perché hai urlato Chef però guardi Non mi guardi così Perché Ecco la Finalmente Insomma ci fosse un insetto Non lo avevo Pensavo ci fosse un insetto 10 minuti di telefon Ah no 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 Ragazzi ma perché mi schizza sto sugo No vaffanculo Bro basta schizzare Cazzo Mi hai sporcato tutto il pavimento Basta ti spengo E poi ti riapro dopo Cosa diavolo Com'è E' freddo Ma 105 gravi Eh no E' freddo 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 Grazie.